Icardi riceve palla, si gira, si attrezza, fa partire un tiro diagonale che c'entra la schiena di Pessoicino. Ah no, c'è una deviazione! Quindi Angolo, Angolo. E noi io pensavo a seguire la traiettoria, pensavo avesse sbagliato lui. Angolo che mi ha battuto e un grappolo di uomini! Goal! Il corte, 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 il corte! Goal! Un duro a pagno! Un grappolo! Stai zitto! Ascolta, dove vuoi essere su Gretti? Temi con la pandemia, stai qui! Invece di prendere il pavoretto, vieni qui! Lascia stare da spazio! Il calcio è bello perché è così, il Genoa rimane letteralmente di ghiaccio. Allora, Londra, Londra, Flex Londra! Atteniamo l'Axalt che pressa. L'Axalt pressa su Candreva. Niente. Non ce n'è uno che ti dirà. Candreva, avanza veloce, 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 mette una palla incomprensibile in mezzo. Andate, dai, dai, bisogna fare gol. Sì, però bisogna andare a fare secondo, ragazzi, mi sembra talmente evidente. Ancora Brozovic, il pallone per Gio Mario, Gio Mario, cambia direzione Gio Mario, resiste da carica, si invola, si invola, si invola, la palla in mezzo, Brozovic! Secondo! 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 Grande azione di Gio Mario! Gol! Gol! Palla, si invola a Gio Mario! E la mette poi in mezzo, come Brozovic ha il tempo di controllare, baffetto Cufaccio, e la mette dentro. E due a zero! Oh, 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 oh! Adesso il gatto è finita! La prima partita è finita! La minata calcistica! Nella Arturo vendica quella rossonera! La prima partita è andata da sapere! Adesso è stato suolo! Uno per volta! La prima partita è andata da sapere! geht the va Brent喔 di Bush! Carina.. Eccoci Playangi! iments!